musica scusate per la qualità audio di merda ma sto utilizzando quello di 90 quello è il computer che ho rotto che rotto insomma era già rotto alla fine solo che adesso è molto si mette a fuoco un problema il vecchio amilo PA1510 e quello è uno dei suoi altoparlanti che ho collegato lì a 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